Comuni incontro a Banoa prosegue la battaglia. È nato ieri a Cagliari il Comitato delle Gestioni Autonome del Servizio Idrico. Trenta comuni chiedono di uscire dalla gestione a Banoa. Basta con la disinformazione e gli allarmismi su Genna Luas. I lavoratori della Porto Vesma SRL reagiscono alle numerose polemiche sulla discarica della fabbrica. La convivenza dei diversi settori produttivi è possibile. Basta con gli attacchi feroci all'industria. Maltempo, danni e porti chiusi, il sulcis nella morsa del gelo, raffiche di vento a 80 km orari, traghetti stare ma dirottati da Porto Scuso a Calasetta e alberi secolari abbattuti. Il progetto Icaro approda a Carbonia. La sicurezza stradale è stata al centro dell'incontro tra gli studenti dell'IPI a Emanuela Loia e la Polizia. Obiettivo? Creare una società più responsabile e consapevole. Ben ritrovati su Canale 40. 30 comuni della Sardegna chiedono di stare fuori dalla gestione a Banoa. Ieri a Cagliari hanno costituito il comitato delle gestioni autonome del servizio idrico. Queste amministrazioni sono pronte a scendere in piazza perché chiedono di gestire autonomamente il servizio idrico del loro comune. Sulla questione abbiamo sentito il sindaco di Domusnova, Sangelo Deida, storico promotore di questa richiesta. Sindaco, ieri siete stati a Cagliari, 30 comuni della Sardegna, per chiedere una gestione autonoma del servizio idrico. Quali sono attualmente gli ostacoli? Intanto noi ci siamo riuniti per dare corso al comitato di gestione regionale, dove il sottoscritto è stato eletto presidente. E con i grossi comuni abbiamo fatto l'ufficio di presenza, eccetera. Noi abbiamo già depositato in Consiglio regionale un disegno di legge dove si prevede l'autonomia gestionale del sistema idrico integrato dei nostri paesi. Quindi la creazione di più ambiti, come prescrive la legge nazionale. La politica purtroppo a questo orecchio non ci vuole sentire, perché ha approvato una legge in cui obbliga tutti quanti i comuni, tranne quelli al di sotto dei mila abitanti, per la gestione autonoma. Quindi noi non ci stiamo. Noi di sera abbiamo incontrato anche l'Anci Sardegna. L'Anci Sardegna, che sarebbe quello che tutela i comuni, dove abbiamo prospettato le nostre posizioni. L'Anci Sardegna ha dato disponibilità a appoggiare la nostra battaglia. Allora noi per l'11 abbiamo indetto una manifestazione regionale a Cagliari, per le vie di Cagliari in Consiglio regionale. Partiremo da Santa Vendraccia per arrivare fino in via Roma e con il regionale, dove riuniremo tutti i consigli comunali che delibereranno una delibera in cui richiedono con forza l'autonomia gestionale del nostro sistema idrico integrato. Quindi un fatto abbastanza importante, non era mai successo prima. Lo facciamo noi. E quindi trovate la regione come ostacolo? Io mi auguro che la regione non sia come ostacolo, perché Manicheda, la sore Manicheda, che non abbiamo mai incontrato, deve capire che a noi non ci deve guardare come gente che spreca, come gente che costa. Noi non costeremo un euro come non siamo costati un euro la regione in questi 10 anni. Noi vogliamo soltanto a chi c'è alle altre genti, che è la continua relacola, continua a gestire i comuni. Lo stiamo facendo con i tre coefficienti della legge nazionale. Economicità, efficacia ed efficienza. Basta con la disinformazione e gli allarmismi. Su Genna Luas, i lavoratori della Portovesma SRL reagiscono alle numerose polemiche sulla discarica della fabbrica. Attraverso un comunicato stampa hanno sottolineato come sia possibile la convivenza tra diversi settori produttivi, senza per questo attaccare in modo trasversale le industrie. Ce ne ha parlato questa mattina Tore Cappai della CGL. Sentiamo. I lavoratori della Portovesma SRL hanno inviato un comunicato stampa, se vogliamo, di reazione alle recenti polemiche che si sono messe in piedi intorno alla discarica di Genna Luas in particolare. Esatto. I lavoratori, a nome e anche per conto della RCU, che ha voluto fare una cosa diversa, ha voluto condividere nell'immediato questo comunicato per avere il maggior conforto possibile. Quindi, sottoposto alla lettura dei lavoratori, la sua condivisione. Ieri hanno firmato qualcosa come 400 lavoratori. Sì, l'esigenza di reagire a troppa disinformazione. Noi diciamo anche a troppa cativiera che viene detta nei confronti di chi lavora. Per cui i lavoratori operai, impiegati, tecnici, quadri che onestamente fanno il proprio dovere hanno ritenuto e riteniamo e abbiamo deciso di intervenire ogni qualvolta sentiamo delle negatività nei nostri confronti. Quello stabilimento insiste in quell'area da 40 anni, produce zinco, produce piombo, produce rame, produce oro, produce argento e determina da un materiale di risulta delle scorie. Scorie inerti che vanno alloccate. La discarica di Genelius in questo caso è un esempio straordinario, ho avuto modo di ripetere in questi giorni, anche di vero ripristino ambientale. Prendiamola però quasi come un'opportunità, un'occasione da un sito minerario dismesso, fortemente degradato, è già stato detto troppe volte. Troppe volte abbiamo anche ripetuto che andrebbe divulgato il più possibile, anche il filmato dove faceva vedere com'era in origine il sito, la fine dell'attività mineraria, per essere riutilizzato come impianto di discarica per allocare le scorie. Fra due anni, penso poco meno, verrà terminata l'attività di quell'impianto e verrà consegnata alle future generazioni, diciamo così, al futuro, proprio la collina con la sua morfologia originaria. Quindi un vero esempio di ripristino ambientale. Dottore, la Porto Vesma SRL lo sappiamo così come tutte le industrie, in generale non producono proprio petali di rosa. Forse è auspicabile piuttosto che mettere in piedi un comitato del no appresso all'altro, forse cercare di adeguare meglio gli impianti alle nuove tecnologie nel rispetto dell'ambiente? Giustamente, su quello sempre e sempre più impianti di quel tipo non sarebbero ancora oggi in piedi se non avessero avviato migliorie e innovazione tecnologica sempre più al passo col tempo. Vi ricordo, ricordo a tutti che l'ultimo impianto nato, l'impianto SX, nasce da una innovativa tecnologia di quest'ultimo periodo, che ne esistono solo due al mondo, ed è proprio per effetto dell'immissione di nuove tecnologie. Nel mondo ci si sta se c'è i nuovi investimenti. L'Italia ha bisogno ogni anno di 300.000 tonnellate di zinco. In Italia zinco non se ne fa da nessuna parte, lo si fa solo in Sardegna. In quello stabilimento ci lavorano 1.300 persone tutti i santi giorni, un pezzo di economia importante di questo territorio adesso, al di là del cercare la disoccupazione che c'è, ma questa cosa a noi preoccupa e per questo lo difendiamo con le unghie e con i denti. Devono poter convivere l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, venga promosso e sviluppato quanto si vuole, ma non per questo deve essere per forza attaccata l'industria. Su questo reagiremo ed è per questo il frutto di quel documento. Era previsto per questa mattina davanti alla sede dell'Inns di Giba un sit-in di protesta organizzato dalla CISL contro i ritardi nel pagamento degli ammortizzatori sociali. Il sindacato ha però deciso di sospendere la protesta a seguito degli impegni presi sul tempestivo pagamento della direzione. Ne abbiamo parlato con Rino Barca. Noi in questi ultimi mesi, purtroppo sulla base del fatto che tutti gli ammortizzatori sociali in deroga non vengono erogati dall'Impis perché lo Stato non sta mettendo a disposizione le risorse, abbiamo purtroppo, ahimè, lo dico io che sono sindacalista, però questa è stata una scelta amara fatta anche con il consenso dei lavoratori, abbiamo fatto licenziare tutti quei lavoratori che erano in cassa integrazione in deroga. Quei lavoratori, con questo atto, avrebbero dovuto dal primo di gennaio cominciare a percepire l'assegno della mobilità 223, quindi quella ordinaria. Purtroppo l'Impis, per difficoltà della sua organizzazione, di carenza di personale, per difficoltà varie, siamo arrivati alla fine di febbraio e non sono state ancora erogate le aspettanze dei lavoratori. Quindi tutto il 2014 senza soldi, il 2015 che non arrivano le risorse, chiaro ci sembrava giusto e doveroso andare a dimostrare il nostro dissenso nei confronti di chi invece avrebbe dovuto fare un servizio. Proprio stamattina abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con il responsabile provinciale dell'Impis che dopo una serie di discussioni siamo arrivati al punto che ci hanno garantito, intanto già da stamattina stanno mettendo in pagamento tutte quelle che sono le aspettanze per i lavoratori, e che entro dieci giorni, ma ci ha detto anche, addirittura entro questa settimana, verranno risolti tutti i problemi che si sono determinati, da Giba a Carbonia fino a Iglesias. E passiamo al maltempo, è crollato sotto i colpi del Forte Maestrale, uno degli alberi più antichi di tutta la Sardegna, ovvero il pino secolare simbolo di Fluminimaggiore. Intorno alle 7.30 si è sentito un frastuono, ha raccontato Antonella Pintus, presidente della Proloco a Lanza Sardegna. La pianta era malata da tempo, aveva 250 anni, il maltempo ha creato disagi in tutto il Sulcis e nel Cagliaritano. Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, rami, cartelloni, pali o cornicioni pericolanti. Ed è sempre il maltempo la causa della chiusura dello scalo marittimo di Porto Scuso, a causa delle forti raffiche di vento, i traghetti sono stati dirottati verso Calasetta. L'ondata di maltempo sta creando disagi anche ai collegamenti marittimi con le isole minori. Lo scalo di Porto Scuso in particolare è esposto al Maestrale che ha raggiunto punte sino agli 80 km orari. La Saremar quindi è stata costretta a dirottare su Sant'Antioco le partenze e i rientri da Carloforte. Una persona arrestata, 14 denunciate, un centinaio di capi di Selvaggina e migliaia di lacci sequestrati. È il bilancio dell'operazione anti-bracconaggio del corpo forestale nel Sulcis e nel Sarrabus. A Poggio dei Pini è stato arrestato Salvatore Dessì, 74 anni sorpreso, con numerosi uccelli appena catturati. Si è scagliato contro un forestale ed è finito ai domiciliari per resistenza pubblico ufficiale, mentre sono stati sequestrati cinghiali e due esemplari di cervo sardo. Passiamo adesso alla riorganizzazione della regione Sardegna. L'assessore De Muro ha dichiarato che in un anno sono state tagliate del 25% le posizioni dirigenziali. Ce ne parla nel dettaglio Tamara Pebbis. Le posizioni dirigenziali all'interno della regione passano da 195 a 151, con una riduzione del 25% della dotazione organica da marzo 2014. Si precede nell'intervento di riorganizzazione della macchina amministrativa con l'approvazione in giunta della delibera, che non solo ridefinisce il numero delle poltrone, ma stabilisce i criteri per la costituzione delle unità di progetto. Sono state tagliate 44 posizioni dirigenziali da marzo 2014, ha detto l'assessore degli affari generali Gian Mario De Muro. Da qui dobbiamo ripartire per la seconda fase della riorganizzazione per ridurre ulteriormente la burocrazia. Con una legge del 25 novembre 2014, sono state soppresse le posizioni di studio e ricerca e istituite le unità di progetto. Le unità sono alle dirette dipendenze del Presidente o di un assessore, devono essere istituite con specifica delibera di giunta, la quale prevede la nomina di un responsabile, indica gli obiettivi, la durata e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Sono inoltre strutture temporanee e interassessoriali. Il titolare degli affari generali propone dunque di inserire in via sperimentale nella dotazione organica dirigenziale la possibilità di istituire un massimo di quattro unità di progetto. E come di consueto, il mercoledì vediamo insieme il punto di Manolo Mureddu. Il progetto Icaro è approdato a Carbonia e la sicurezza stradale è stata al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina tra la polizia e gli studenti dell'Istituto Superiore IPIA con lo scopo di educare una società del domani alla responsabilità e alla consapevolezza. Vicequestore Mauro Castiello, responsabile delle relazioni esterne pubbliche della polizia stradale. Oggi è un'iniziativa importantissima di sensibilizzazione di educazione culturale a favore dei giovani studenti. Sì, oggi iniziamo da Carbonia, da questo istituto, iniziamo il percorso di Icaro 15 che attraverserà tutta la Sardegna e quindi coinvolgendo tutte le province della regione Sardegna. Icaro 15 è un programma che è giunto alla sua quindicesima edizione ed è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della pubblica istruzione ed è finalizzato a sensibilizzare i ragazzi a una guida consapevole e sicura dei veicoli. Sì, la bicicletta sta diventando un mezzo al pari degli altri usato in modo passivo da parte degli utenti della strada, sia per attività minimali ma anche e soprattutto dai ragazzi che dalle proprie abitazioni si portano nelle scuole. Quindi è importante in un modo o nell'altro generare quei comportamenti sicuri ed in particolare ad esempio l'uso dei giubbotti ad alta visibilità che ricordiamo sono obbligatori fuori dai centri urbani nelle ore serali. Non c'è quindi l'obbligatorietà all'interno dei centri urbani che normalmente sono illuminati ma è opportuno tra le regole da seguire per una migliore circolazione stradale utilizzare il giubbotto ad alta visibilità, ovviamente insieme alle luci anteriori e posteriore di cui sono dotate le biciclette. Floriana Lamattina, assistente capo della polizia stradale. In Italia non esiste una legislazione rispetto all'utilizzo della bicicletta quindi questo può essere un buon veicolo di trasmissione, di educazione culturale nei confronti dei giovani ma anche delle famiglie. Assolutamente, si sta cominciando perché per esempio anche il discorso dell'utilizzo del casco non è obbligatorio per il codice della strada ma comunque da un punto di vista logico e di sicurezza stradale conviene ai ragazzi utilizzarlo appunto per evitare di farsi del male. Poi il discorso della legislazione è al vaio perché è tutta una questione di tempo. Ricordiamoci che 20 anni fa non era obbligatorio neanche l'utilizzo del casco nel ciclomotore e poi lo è diventato. Quindi pian piano ci stiamo arrivando. Anche qui in zona per esempio da Carbonia a San Giovanni Suergio abbiamo visto la presenza di una pista ciclabile è una cosa bellissima che permette ai ragazzi, agli adulti, agli amanti, ai ciclisti in genere di poter splettare i loro sport in assoluta sicurezza. E qui Carbonia ce n'è proprio una veramente bellissima nella strada per San Giovanni Suergio. L'incontro serve proprio per questo, per sensibilizzare i ragazzi a questo scopo. Poi è una cosa bellissima perché loro, soprattutto a questa età, apprendono in una maniera meravigliosa e garantiscono a noi operatori di polizia di vedere le cose da un altro punto di vista. Non vediamola come una lezione, nel senso che noi non stiamo venuti qui per insegnare ai ragazzi qualcosa. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza e loro ci mettono a disposizione il loro punto di vista per permetterci di vedere le cose anche da un altro punto di vista, il loro, quello dei ragazzi. E quindi è una chiacchierata che ci permette di metterci a confronto. Vediamola così. Per Paolo Secci, insegnante, oggi è un'iniziativa importante a favore dell'educazione stradale e culturale dei giovani studenti per quanto riguarda la sicurezza stradale. Abbiamo dei ragazzi di prima che si spostano con mezzi tipo motorini, tipo biciclette, si spostano soprattutto in orari di punta, orari di ingresso e uscita da scuola dove c'è il traffico che è abbastanza congestionato. Quindi in mezzo ai pericoli, tra l'altro la nostra cittadina non è che sia dotata di piste ciclabili abbastanza, ci sono dei tratti di strada che fanno i ragazzi che non sono abbastanza sicuri. Presso l'albo Pretorio Comunale di Carbonia, o l'ufficio pubblica istruzione e le sedi delle ex circoscrizioni e sul sito istituzionale, è in pubblicazione la graduatoria definitiva relativa ai contributi dei rimborsi delle spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le scuole superiori artistiche relativamente all'anno scolastico 2014-2015. Con un avviso successivo sarà poi comunicata la data d'inizio del pagamento dei contributi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio della pubblica istruzione. L'ASCOP, associazione sarda contro l'obesità patologica, organizza per sabato 14 marzo alle 10 presso il Luotella Carbonia il primo convegno sulla chirurgia bariatrica. L'obesità è ancora possibile non considerarla una grave malattia? Si cercherà di dare risposta a queste ed altre domande nel corso del convegno, insieme a un pool di medici esperti della materia e alcuni pazienti ex obesi. L'Università Popolare del Sulcis Sischiglia Onlus con il patrocinio del liceo paritario Pirandello presenta oggi alle 17.15 presso la sede dello stesso liceo a Carbonia la conferenza della dottoressa Eugenia Cervello, mediatrice di conflitti psicosociali e presidente dell'associazione Lumen di Cagliari. Il tema della conferenza sarà genitori efficaci per non perdere il valore della famiglia. E con questo appuntamento è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, poi Noas in Curzu e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Questo giovedì 26 febbraio sarà caratterizzato da pioggia intermittente e schiarite. Vento da nord con intensità di 18 km orari, grafiche fino a 28 km orari, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi e massime comprese tra gli 11 e 15 gradi.